Il viaggio alla ricerca dell'eccellenza dei territori Come si produce e come passa dalle api direttamente alle nostre case Continuate a seguirci perché oggi vedremo qualcosa di veramente molto interessante Ed eccoci qua, siamo a Valdieri, siamo andati a scoprire gli alveari È proprio dove nasce la magia, dove nasce il miele, dove le api vivono e passano, in questo caso, i loro inverni L'azienda agricola di Miraglio Fabio, come vi abbiamo raccontato, ha varie aree, varie zone, sempre in queste vallate Dove queste api vengono allevate e dove andremo a realizzare il miele che vi faremo vedere nei video successivi Ecco qua alle mie spalle un primo stralcio di quello che vedete e adesso ve lo vado a mostrare un pochino più nel dettaglio Guardate che luogo incantevole In questo momento le api si stanno riposando, stanno dormendo, è mattina Presto però tra non molto ci sarà un gran movimento qua Perché oggi la giornata sembra particolarmente bella e quindi inizieranno il loro lavoro Quella che vedete appunto è la sistemazione invernale e poi con l'avanzare della stagione andranno, si sposteranno in altri luoghi Ripeto, sempre in queste vallate, quindi nelle vallate circostanti al comune di Valdieri Dove potranno compiere il loro lavoro prezioso e dove ci doneranno del miele veramente eccezionale Abbiamo trovato un altro angolo meraviglioso dove le nostre api si stanno riposando E guardate che bel panorama che possono ammirare ogni giorno Con un panorama del genere in primavera faranno sicuramente un miele veramente eccezionale Siamo come detto sempre a Valdieri e questo è appunto il riposo invernale delle api Carissimi amici il nostro viaggio prosegue, stiamo andando a trovare un altro bellissimo angolo dove le nostre api passano gli inverni È una camminata particolarmente impegnativa e io la sto facendo così senza niente Immaginate questo percorso fatto con gli alveari da portare a posto Veramente veramente una cosa complicata, una cosa che fa molto onore a questo apicoltore, a questa azienda agricola Perché stanno facendo veramente un lavoro molto molto impegnativo Io ho rifiato un attimino e poi vi faccio vedere quello che ho trovato Ed eccoci qua carissimi amici, siamo arrivati Guardate quanti alveari ci sono Viaggiano quasi all'infinito, veramente bello È un luogo tra l'altro incantevole Vediamo se riesco a mostrarvi qualcosa Guardate che meraviglia, che belle montagne che abbiamo Comincia già esserci un po' di fioritura E quindi le nostre api sono in movimento Non so se riesco a farvi sentire ma c'è già un bel ronzio Vuol dire che si stanno svegliando E stanno per iniziare la loro giornata Quello che vedete carissimi amici È il luogo dove le nostre api lasciano il polline Come vedete questi buchini, non so se riesco a rendere l'idea Fanno entrare l'ape ma il polline rimane in questa retina che vedete qua sopra Adesso parlo piano perché si stanno riposando Però tra poche settimane, tra qualche mese al massimo Qua sarà tutto un ronzare e tutto un lavorare Il miele nasce anche così Ed eccole qua le nostre api Come vedete sono tutte sveglie, sono tutte attive Stanno lavorando Facciamo piano perché non vogliamo disturbarle Questo è solo uno dei tanti alveari che vedete qua Guardate che meraviglia Ed eccole qua carissimi amici Guardate le nostre api Non ci avviciniamo troppo perché non vogliamo disturbarle Ma guardate che meraviglia Non so se riuscite a sentire il brusio Ma sono veramente meravigliosi Adesso però le lasciamo riposare perché è giusto che sia così Loro intanto lavorano perché devono produrre tanto miele Tanto miele di montagna E guardate ancora una volta che montagna Meravigliosa E prima di lasciare questo luogo meraviglioso Vi voglio mostrare una piccola chicca Una curiosità Come vedete qui davanti a me ci sono degli alveari fatti un po' diversi Rispetto a quelli che siamo abituati a vedere Perché questi potremmo definirli un po' una sorta di nursery Oppure un primo alloggio Qui arrivano per la prima volta le api Mettono su famiglia per dirlo in maniera molto semplice E quando vanno creato appunto la loro famiglia E qui saranno pronte per il lavoro che le aspetta Si sposteranno negli alveari più grossi che vedete nelle immagini Insomma un'altra curiosità che arriva direttamente qui da Valdieri Da questa meravigliosa azienda agricola Che ci ha fatto scoprire qualcosa di veramente molto particolare Ed eccoci qua dopo aver visto quindi come lavorano le nostre api in esterno Quindi in montagna Andiamo nel laboratorio dove la magia Dove il lavoro delle api si trasformerà poi in miele Questi che vedete sono proprio Potremmo definirli dei depositi Dove le api vanno a depositare il loro miele Guardate qua che bello come è grande Qui all'interno c'è tutta la prima parte diciamo del miele La primissima fase che poi ovviamente andrà a lavorare E ora vi spieghiamo come funziona quindi la fase successiva Quello che vedete carissimi amici è il luogo dove le api vanno a depositare il miele Quando viene estratto dagli alveari Dalle cassette che abbiamo visto prima Ha un prodotto come questo Una sorta di cera che lo va a rivestire L'apicoltore può lavorare con questo strumento che state vedendo Gratta questa cera Oppure lo può fare quando la produzione è tanta Attraverso questo macchinario Che sicuramente rende il tutto più veloce Dopodiché arrivati a questo punto Passiamo alla fase successiva Che è questo grosso bidone che trovate qui davanti a me Questa grossa cisterna Qui il miele viene lavorato sotto forma di centrifuga E diventerà quello che conosciamo noi Come vi dicevo carissimi amici Questa cisterna che vedete Praticamente è una grande centrifuga All'interno di questa grande centrifuga In stagione abbiamo tutti questi pannelli Quindi con tutto il miele disteso sopra E girando lo va ad estrarre E quindi il nostro miele uscirà Da questo buchetto che troviamo qui sotto Dopodiché andremo a fare l'ultima lavorazione Il miele viene disposto in queste altre due botti E qui andrà a separarsi dalla cera E dopodiché potrà essere pronto Per andare nei vasetti E quindi per essere consumato Insomma abbiamo visto tutto il percorso La nascita del miele Dall'alveare fino al vasetto E dopo tanto lavoro Quindi dopo esser partiti dagli alveari Dal grande lavoro fatto in montagna Dopo essere tornati in azienda E dopo aver fatto tutte le lavorazioni necessarie Il nostro miele E non solo il miele È pronto per essere venduto Questo qua è un millefiori Ma ne abbiamo di tanti altri tipi Ad esempio abbiamo quello Il miele di castagno Perché in questa azienda agricola L'azienda agricola Miraglio Offre veramente una vasta gamma Di prodotti di questo tipo Perché ce n'è come avete visto Veramente per tutti i gusti Insomma non ci rimane altro da fare Che andarlo ad assaggiare Allora 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 Grazie a tutti